Anna Maria è sparita da 20 giorni, l'ho cercata dappertutto, nei commissariati, negli ospedali, ma niente, niente. Non posso tornare indietro. Ora basta, cosa c'entrano i padri? Muria, sei Longaville, con chi mette le bombe? Assolutamente niente. Andiamo, presto, presto, presto. L'hanno trovato Angelelli sul ciglio di una strada, col cranio fracassato. Esther! Esther! Sa benissimo di che cosa sto parlando. E anche lei, vostra eminenza, ci rende conto del valore di quella gente. Una per lei e una per il sindaco. Davanti a queste vittime possiamo voltarci dall'altra parte o possiamo rispondere ai criminali non prendetevela con mio fratello. che tu possa andare dove più ti amano. Ragazzi, girano voci che By The Sea, film diretto da Angelina Jolie, dove la vediamo al fianco di Brad, sarà il suo ultimo film d'attrice. No, cavoli. Cosa ne pensate? Vi dispiace? O no? Fatemi sapere nei commenti qui sotto. E se volete rimanere con me, altro d'Angelina Jolie, cliccate qui accanto. Un bacio da Valeria, ciao.